C'è una tale squadra al pannello principale nell'area di lavoro, disegno e annotazione. Nell'Africa subattiva redazione per allineare. Al campo di lavoro per selezionare un oggetto per indicare e finalizzare la selezione fare clic sul pulsante invio per selezionare la sorgente e impostare il punto di destinazione. Per poi finire con i punti tasto invio.